Le mani sull'addome Stabilmente Con il peso ben distribuito Nella parte anteriore Posteriore E nei due lati Interno ed esterno Possiamo appoggiare una mano adesso Sul petto E semplicemente sentire Il respiro Che si espande nel corpo Senza tentare di modificarlo in alcun modo Semplicemente Sentiamo Ciò che sentiamo Proviamo a rilassare Il collo La bocca Le guance Ci prendiamo qualche istante Solo per noi Solo per ascoltare Che cosa accade nel nostro corpo Come stiamo in questo momento Mettiamo le mani Sul bacino E cominciamo Piano a muovere Di lato A destra E sinistra Il bacino Come se i due lati Del bacino Fossero Due piatti Di una bilancia L'uno sale L'altro scende E poi cambiamo il movimento Basculando avanti e indietro Con il bacino Appoggiando La parte posteriore Della zona lombare A questo punto Spingendo sui talloni Possiamo sollevare Una vertebra alla volta Il bacino E la colonna vertebrale La schiena Fino ad arrivare All'appoggio sulle scapole E poi Scendiamo Ancora una volta Premendo sui talloni Retroversione del bacino Salgo Srotolo Vertebra dopo vertebra E poi Ritorno giù Scendendo ancora una volta Un segmento Per volta giù E continuo Con questo movimento Come se fosse un massaggio Per riscaldare Le articolazioni vertebrali Posso ruotare la testa Da un lato Quando scendo Poi ancora una volta Salgo in ponte Bridging E quando scendo Ruoto la testa Dall'altra parte Ritorno al centro Con la testa E ancora una volta Salgo in ponte Vertebra dopo vertebra E porto su Le braccia Verso il cielo O il soffitto Mentre scendo Le braccia vanno indietro Mentre salgo Con il bacino Le braccia scendono E continuo così Ognuno con il proprio ritmo Per il momento Non vi parlerò Della respirazione Respirate come Vi è più comodo In questo lavoro E adesso Portiamo le braccia indietro Poi srotoliamo E scendiamo insieme Con le braccia Quindi insieme Sale il bacino Le braccia vanno indietro Le braccia scendono Il bacino Si poggia Ancora uno E ritorno giù E adesso rimango giù Con il bacino Sistema Rilasso le spalle Porto sulla gamba sinistra Col piede e martello E poi la gamba destra Mantenendo il bacino fermo Senza oscillare Con il bacino Poi di nuovo La sinistra E questa volta Porto su Anche la gamba destra Anche qui Mantenendo stabile Il bacino E comincio a muovere Una gamba E il braccio opposto Allontanandoli dal corpo Qui è consigliabile Espirare Quando allontaniamo Le braccia E le gambe Dal corpo Braccia e gamba opposta Si allontanano Senza che questo Cambi La posizione E l'appoggio Del mio corpo Sul tappetino Continuo Usando questa volta Invece dei talloni Le punte dei piedi E ricordando Di avere in appoggio La testa La zona del torace E il bacino Sul tappetino Senza sollevare La zona lombare Se questo dovesse accadere Vi consiglio di poggiarla Adesso incrociamo Le dita delle mani Poggiamole dietro la testa Lasciando la gamba Sinistra su Guardiamo Verso il bacino Solleviamo Testa e spalle E distendiamo la gamba E poi ritorniamo giù Con la gamba piegata E ancora Coordiniamo il movimento Quando salgo Con la testa La gamba Si distende in avanti E poi torno giù Qui è consigliabile Espirare Quando sali Inspirare Quando scendi Cambio gamba E continuo Quando salgo Con la testa e le spalle La gamba Si stende in avanti Qui la zona lombare La teniamo Leggermente in appoggio Per avere un riferimento Del tappetino Ed evitare così Di inarcare La zona lombare Lavorando quindi Con un bacino Stabile Solleviamo la testa Adesso con tutte e due Le gambe su Una gamba Si stende in avanti E l'altro ginocchio Piegato Arriva al petto Qui una sfida in più Come coordinazione La gamba Che si stende in avanti Ha il piede a martello La gamba Che invece Si avvicina al corpo Ha il piede in punta Quindi puoi alternare E adesso Lavoro in obliquo Quindi alla gamba Che si avvicina Avvicino la spalla opposta Mi avvicino Con la spalla destra Verso il ginocchio sinistro E viceversa Con la spalla sinistra Al ginocchio destro Continuando ad alternare Il movimento delle gambe Una che si stende E una Piegata E poi giù Ci riposiamo un attimo Poggiamo entrambi i piedi Le braccia di nuovo Verso il cielo E ancora una volta Vado su in ponte Questa volta Sollevo come sfida La gamba sinistra Piede a martello Piede in punta E poggio giù E poi la gamba destra Il bacino rimane stabile Piede a martello Piede in punta E poggio E adesso di nuovo Gamba sinistra Porto le braccia indietro Piede a martello Allungo in avanti La gamba sinistra Allineandola più o meno Col ginocchio destro E mi fermo In questa posizione Per poi ritornare E cambiare gamba Gamba destra Distendo in avanti Piede a martello E braccia indietro Mantengo la posizione Stabile il bacino Premo bene Sul piede sinistro Fletto il ginocchio Poggio entrambi i piedi Scendo srotolando Vertebra dopo vertebra E riporto su una gamba Per volta Con le mani Questa volta Dietro le ginocchia Sollevo la testa E da qui Uso come un dondolo Le gambe mi aiutano A venire su Mi siedo Guardo avanti E poi srotolo Una vertebra alla volta Mi fermo a metà Con i piedi a martello Posso distaccare le braccia Se me la sento E mantenere questa posizione Con il bacino in retroversione Il che vuol dire Che il pube Si deve avvicinare Tutto il tempo Verso l'ombelico Per mantenere la colonna Vertebrale in flessione E usare l'addome Poi ritorno in avanti Arrotondandomi E poggio tutto il piede Ancora una volta Srotolo Una vertebra dopo vertebra Questa volta Rimango Ma se me la sento Incrocio le mani Poggiandole sulle spalle In questa posizione È un pochino più Intenso il lavoro E poi di nuovo Ritorno Arrotolandomi Un'ultima volta Rimango a metà Con i piedi a martello Ancora più sfidante Mani dietro la nuca E mantengo Rilassando le spalle Il collo E la bocca Se non te la senti Puoi anche rimanere Nelle posizioni precedenti Poi ritorna giù Una gamba per volta Su Mani dietro le cosce Ritorna su Ti siedi Questa volta Srotola Stacca una gamba Stacca l'altra gamba Mantieni la posizione E poi una vertebra alla volta Srotola giù Usa le gambe La colonna sempre in flessione Usa lo sguardo Guarda davanti a te Stacca una gamba Poi l'altra E srotola Appoggiando un singolo segmento Per volta Lo sguardo ti guida Nella salita Guarda verso il bacino E poi di nuovo in avanti E srotola Stacca una gamba Stacca l'altra gamba Prova come sfida Staccare le braccia Mantenere la posizione Sempre con le spalle rilassate Il viso disteso E poi srotola Vertebra dopo vertebra Se vuoi E se puoi Senza usare le mani Di nuovo Mani dietro le cosce Ritorna su questa volta Senza appoggiare i piedi Rimani in equilibrio Dietro gli schi E srotola Poggia la testa Ancora una volta Risali come un dondolo Ma senza appoggiare i piedi Poggia solo una gamba Mani dietro il ginocchio sinistro Stendo la gamba sinistra Piede a martello Piede in punta Cambio gamba Stendo la gamba destra Piede a martello Piede in punta Fletto entrambe le ginocchia Riporto le gambe su E srotola un'ultima volta Poi ritorno su ancora una volta Arrotolandomi Allineo la colonna Braccia distese in avanti Srotolo questa volta Senza l'ausilio Delle mani dietro le ginocchia E mentre continuo a srotolare il busto Distendo le gambe Braccia indietro Piede in punta Inspira E poi piedi a martello Le braccia salgono Comincio ad arrotolarmi Flettendo le ginocchia Ritorno su E ancora Srotola Mentre srotoli Distendi le gambe Ti aiuta E poi le braccia indietro Piede in punta Piede a martello Mentre le braccia salgono Arrotonda il corpo Fletti le ginocchia Ritorna seduto Seduta Questa fase è un pochino più complicata Quindi nel caso rimani Nella versione precedente Con le mani dietro le ginocchia Adesso ci sediamo Con le gambe incrociate In una posizione comoda Se questa posizione per te non è comoda Puoi allargare le gambe Poggiando i piedi per terra davanti a te Poggia le mani di lato Allungando la colonna Rilassa le spalle E fletti il busto verso destra Poggiandoti sulla mano destra E allungando il braccio opposto sopra la testa E ripeti dall'altra parte Espira quando fletti Crea una curva C nella tua colonna Il più lunga possibile E rilassa il braccio Le spalle Il viso Il movimento è morbido Solo mobilità della colonna Durante la flessione laterale Cambiamo posizione Siamo in ginocchio E portiamo Il nostro corpo in quadrupedia Quindi ci poggiamo sulle mani Sulle ginocchia Quattro zampe Sentiamo bene l'appoggio delle mani Cominciamo a immaginare che lo sterno Posa toccare il pavimento Senza flettere i gomiti Quindi le braccia rimanono distese E poi ritornare su Il movimento accade nella zona delle scapole Come se le scapole si avvicinassero tra loro Quando lo sterno scende Si allontanassero Quando risosteniamo ancora una volta Sul torace Manteniamo questo sostegno Questa gancia delle scapole E proviamo a sollevare Il ginocchio sinistro La mano destra E poi cambiando Ginocchio destro Mano sinistra Solo per controllare Gli appoggi A questo punto Cominciamo a flettere la colonna Guardando verso l'ombelico E poi Inarchiamo la schiena Guardando in avanti Puntando i piedi Di nuovo Il coccige Scende verso il basso Formo una curva C Con la colonna E poi una curva C Dall'altra parte Guardo in avanti E punto i piedi Poi ritorno In una posizione allineata E allungo La gamba sinistra Indietro Il braccio destro In avanti Mantenendo la posizione In questa posizione Di quadrupedia Immaginiamo di avere Un bastone Che possiamo appoggiare Sulla schiena Questo bastone Sarà appoggiato Più o meno Sulla parte posteriore Della testa Sul torace E sulla zona del sacro Cambiamo Gamba destra E braccio sinistro Allungati Cambiamo l'appoggio E poi poggiamo Tutti e quattro gli arti Puntiamo le dita Dei piedi E mantenendo stabili Le spalle Stacchiamo le ginocchia Solo di qualche Centimetro da terra Continuiamo a respirare Non tratteniamo Il fiato E manteniamo Questa posizione Per poi scendere Sfiorare il pavimento E risalire Solo per qualche Volta Quindi manteniamo L'appoggio Sulle dita dei piedi E sulle mani E poi infine Continuiamo Poggiando Di nuovo le ginocchia E ancora una volta Stacco la gamba sinistra E braccio destro Tocco il ginocchio Mentre si flette sotto il corpo E poi ritorno Ad allungare in avanti Un esercizio di coordinazione Ognuno con il proprio ritmo Cambiamo diagonale Gamba destra Che si flette La mano opposta Tocca il ginocchio E allungo indietro Solo qualche Ancora una volta Qualche ripetizione Poggiando Braccia e gambe Allarghiamo un pochino Le ginocchia Ci sediamo con il bacino Sui talloni Mantenendo la schiena Allungata Le mani in avanti Allunghiamo ancora Un pochino La schiena Respiriamo profondamente Fino a appoggiare la testa Rilassando la colonna Possiamo portare anche Le braccia indietro Scaricando il peso Sulla testa Sul bacino Lasciando le braccia morbide Poi riportiamo Le braccia in avanti Uno per volta Solleviamo la testa Solo per sistemare Un pochino la posizione Allunghiamo le mani Puntiamole bene Puntiamo i piedi E spostiamo il peso del corpo Indietro Staccando le ginocchia Piano piano Entriamo nella posizione Che nel Pilate Si chiama Nell'elefante Nello yoga È il cane Che guarda in giù Possiamo flettere Le ginocchia E allungare Le gambe Distendendole Puntando i talloni Verso il pavimento E lasciando Che la nostra coda Il nostro coccige Possa andare In su Verso il cielo Senza crollare Nella zona delle spalle Ancora una volta Flettiamo le ginocchia E poi ci stiracchiamo Allungando Le gambe Distendendo Poi di nuovo Poggiamo I talloni Giù Distendiamo Una gamba Puntando il piede Poi stacchiamo L'altro ginocchio Da terra E distendiamo Anche l'altra gamba Nella posizione Di plank La panca In questa posizione È molto importante Non cedere Con la parte superiore Del corpo Quindi mantenere Una buona pressione Delle mani Sul pavimento Per attivare La stabilizzazione Della spalla Poi flettiamo Le ginocchia E ritorniamo Nella posizione Dell'elefante O del cane Che guarda In giù Quindi una piramide E possiamo provare A sfidarci Sollevando Una gamba E poi l'altra Assù In linea Con il corpo E poi Ritorniamo Nella posizione Della panca Appoggiamo Le ginocchia Rilassiamo I piedi Scendiamo Un pochino Con il bacino Allunghiamo In avanti Il petto Guardando In avanti Flettiamo I gomiti Per andare giù E poi Spingiamo Sulle mani Lo sguardo Sale per primo Allunghiamo La colonna In una leggera Estensione E veniamo su E poi ritorniamo Giù Senza mai Perdere Il controllo Della spalla È come se fosse Un dondolo Il nostro corpo Quindi formando Una curva Sentiremo Che Poggia Prima il bacino Poi l'addome Poi il petto Infine scende la testa E al contrario La risalita Che parte Dallo sguardo Rilassiamo La testa Sul tappetino Nella posizione Del fanciullo Con i glutei Sui talloni E poi Ritorniamo giù In posizione Prona Pancia sotto In appoggio Sui gomiti Quella che chiamo La posizione Della sfinge Mantenendo fermo Il bacino Fletto Il ginocchio Sinistro Piede a martello Il tallone Rivolto al cielo E poi di nuovo Poggio E la stessa cosa Con la gamba destra Senza accedere Sempre nella zona Delle spalle Quindi continuo a sentire La pressione dei gomiti Poi scendo Poggiando la fronte Sulle mani E stacco La gamba sinistra Lunga indietro Alternandola Con la destra E mentre continuo Ad alternare Sento Che la parte Anteriore Del bacino E il pube E il pube I riferimenti ossei Del bacino Sono a contatto Con il pavimento Con il tappetino Con il prato Con la sabbia Dovunque siate Mantengo la gamba sinistra Sollevata E sollevo anche il torace E poi continuo ad alternare Mantengo una curva La braccia omogenea Della parte superiore Del corpo Senza perdere Il contatto Della parte anteriore Del bacino Con il pavimento Per evitare Di inarcare Esageratamente La zona lombare Lavoro Con tutto l'alto inferiore Fino al gluteo Poi spingo Sulle mani Per cambiare posizione Ci stendiamo Sul fianco destro Poggiando la testa Scusate Con l'orecchio Sul braccio L'altro braccio È disteso lungo il corpo La gamba destra Piegata Allunghiamo bene Nel corpo La gamba sinistra È sollevata Piede in punta Martello E poi una leggera Rotazione esterna Quindi alterno Gamba lineata Piede in punta E martello E poi col piede a martello Ruoto leggermente Verso l'esterno A partire dalla coscia Tutto l'alto inferiore Continuo ad alternare Poi fletto il ginocchio E allungo Mantenendo il piede a martello Ginocchio verso il petto E tallone Attenzione in questo movimento A mantenere stabile Il bacino Quindi non vogliamo che la schiena si muova Che ci sia flessione o estensione Ma rimane stabile il bacino E a questo punto Piccoli cerchietti Immagino di avere una matita Sotto il tallone E disegno piccoli cerchietti Prima da un lato E poi dall'altro Poi fletto il ginocchio Aiutandomi con le mani Vengo su E fletto la colonna Allungando il lato destro del corpo Per poi cambiare il lato Per poi cambiare il lato Anche qui Anche qui i cerchietti Va bene o distesa in avanti Poi ci sediamo ancora una volta Riprendiamo il nostro lavoro Di srotolamento Arrotolamento In maniera più completa Adesso che siamo caldi Quindi srotoliamo Stacchiamo una gamba E poi l'altra Rimanendo in equilibrio Dietro gli ischi Poggiamo le mani sulle tibie Arrotondiamo la colonna Guardando verso il pube E dondoliamo indietro Formando appunto Una curva della nostra schiena Su cui poter dondolare morbidamente Se non avete mai frequentato Pilates prima Vi consiglio di fare attenzione a questo esercizio Soprattutto se avete problemi alla schiena Perché lo spiegherò in altri video Ma è bene eseguirlo in una maniera Un po' attenta Quindi poggiamo adesso le mani sul tappetino Solleviamo il bacino allineando la schiena E poi scendiamo Le dita sono rivolte in avanti o di lato Non indietro I piedi sono ben stabili sul pavimento Premo con tutto il piede Sollevando il bacino E quando scendo Attenzione a non perdere la stabilità della spalla Quindi attenzione a non sollevare le spalle verso le orecchie Ma mantenere sempre attiva la pressione delle mani sul tappetino Per consentire alla spalla di rimanere stabile E di sorreggerci Distendiamo a questo punto le gambe Piedi a martello Le braccia sono distese anche loro in avanti Flettiamo la colonna Arrotondandoci in avanti Guardando il pube E poi srotoliamo come se ci appoggiassimo ad una parete Ruotiamo poi verso sinistra Guardando la mano E ritorniamo a flettere in avanti Srotolo la colonna vertebra dopo vertebra E ruoto verso destra Seguendo la mano I piedi rimangono allineati Nessuno spasamento dei piedi Uno rispetto all'altro E ancora una volta Da un lato e dall'altro Mantenendo la colonna il più possibile Allineata durante la rotazione Senza creare tensioni Se questa rotazione vi dà fastidio Diminuite l'ampiezza Oppure evitatela Le rotazioni possono essere problematiche Per chi ha problemi nella schiena Srotoliamo la colonna completamente Piedi in punta Braccia indietro E adesso Riarrotoliamo su E ritorniamo in avanti Con la schiena curva E direttamente Srotoliamo Scendiamo Roll down E ritorniamo su Dalle braccia Il corpo rotondo L'addome che si attiva Tutto il corpo diventa curvo Portiamo le braccia su Poggiamo le mani indietro Questa volta Estendiamo il corpo Ci allunghiamo Guardando in avanti E un pochino in alto Flettiamo il ginocchio sinistro Appoggiamo il piede sinistro Oltre il ginocchio destro E ruotiamo Abbracciando Con la mano Il ginocchio Con la mano destra Il ginocchio opposto E guardando indietro E poi Cambiamo posizione Dall'altra parte Allunghiamo la colonna Prima di ogni rotazione Poi ritorna In avanti Se ti fa piacere Ancora una volta Puoi allungare La schiena Guardando Verso il cielo Prendendo le spalle In appoggio In appoggio Sulle mani Con i talloni Rivolti In avanti Poi appoggia La caviglia destra Sul ginocchio sinistro E fletti Il ginocchio sinistro Avvicinando a te Il piede E appoggiandolo Sul tappetino Rimani in appoggio Sulle mani Con un buon sostegno Della schiena E senti allungare Tutta la parte interna Dell'anca Il lato del gluteo destro Ovviamente Più avvicinerai Il piede sinistro Verso di te Più l'allungamento Sarà intenso Poi cambia gamba Regola La distanza Del piede Che appoggia Sul tappetino Sul pavimento Mantieni le spalle Lontane dalle orecchie E respira In questa posizione Rilassando La gamba sinistra Lasciando andare Il ginocchio Verso l'esterno Poi sciogli la posizione Ti siedi di nuovo Sui tuoi ischi E ruota Le caviglie Verso l'esterno E verso l'interno Senti tutte le dita Dei tuoi piedi Poi fletti Entrambe le ginocchie Avvicinando i piedi Verso di te Con le piante Che combaciano Appoggia le mani Sulle caviglie Allunga la schiena Mantieni questa posizione Di allungamento Rilassando le spalle Se vuoi Puoi provare Molto dolcemente Ad allungare il corpo In avanti Formando una curva C lunga Appoggiando le mani Sul tappetino Ovviamente Puoi scegliere Quanto andare in avanti Non è necessario Sacrificarsi Quindi Il dolore Non è un buon amico Puoi anche Appoggiare le mani Sui dorsi dei piedi Come una conchiglia E rimanere in questa posizione Per sentire un allungamento Nella parte posteriore Della schiena Dolcemente Rivolgi il tuo sguardo Verso il bacino Poi piano piano Ritorna con le mani In su E ti prepari All'ultima Parte Di questa lezione Sdraiandoti Per il momento Tieni le gambe piegate E sistema Il tuo corpo Sul tappetino In modo comodo Se hai necessità Di sostenere Per qualche istante La testa Puoi farlo Anche con le tue mani Senti il bacino Con un appoggio Omogeneo Tra lato destro E lato sinistro Rilassa le braccia Lungo i fianchi E concediti Ancora qualche istante Per muovere il bacino Come abbiamo fatto All'inizio Della lezione Una leggera bascula In avanti E indietro Come ancora Un piccolo massaggio Nella zona lombare Per poi Quando ti senti Pronta o pronto Di stendere Una gamba Dopo l'altra E poggiare Le mani Sull'addome In questa posizione Rilassa Le gambe Lascia che i piedi Possano Rilassarsi Verso l'esterno E semplicemente Concediti Qualche istante Per sentire Il tuo corpo Che respira Rilassa il viso Distendi la fronte Ammorbidisci La bocca La lingua E le guance E semplicemente Ascolta Il tuo respiro Espandersi In tutto Il tuo corpo Senza tentare Di modificarlo Solo senti Ciò che accade Senza giudizio Senza fretta Godi di questa sensazione Di benessere Che il movimento Può aver generato Dentro di te E semplicemente Concentrati Sulle sensazioni Del tuo corpo Il contatto Con il tappetino La sensazione Di calma Del tuo corpo E della mente Senti l'aria Che attraversa Il tuo corpo Partire dalle narici Passando Per il retro Della gola Fino ad arrivare Nella tua gabbia Toracica Senti l'addome Che si espande Sotto le tue mani Quando inspiri E poi Senti nell'espiro Il percorso inverso Dell'aria Che attraversa La tua gabbia toracica Dai polmoni Va su Verso La gola E poi Fuori Attraverso Le tue narici Le spalle Sono morbide Rilassate Verso la terra Poi molto lentamente Mentre continui A respirare In modo fluido Puoi disegnare Dei piccoli cerchietti Con il naso Verso il cielo Prima da una parte Poi dall'altra Solo per riprendere Il contatto Con Il movimento Della tua colonna Del collo Puoi attivare Le dita delle mani E dei piedi Senza fretta Piega una gamba E poi l'altra Mentre ti giri Su un fianco E prenditi Il tuo tempo Non c'è bisogno Di affrettarsi Quando ti senti Pronta O pronto Aiutandoti Con le mani Vieni su Mettiti seduto Seduta A gambe incrociate O nella posizione Per te più comoda E ruota Solo una volta La testa Da una parte E dall'altra Con dolcezza Senza fretta Allunga le braccia Verso il soffitto O verso il cielo E poi le riporti giù Inspira ancora una volta Portando su le braccia E giù Un'ultima volta Porta su le braccia Unisci i palmi Delle mani Porta le mani Al petto E grazie E grazie